Alberghi chiusi nel periodo ridosso di Pasqua, difficile la situazione delle terme e Ugane, dove chiusi sono anche i parchi e molte attività. E l'invito resta quello di rimanere a casa, così a Montegrotto. Il comune di Montegrotto Terme è stato il secondo comune della provincia di Padova a richiedere lo stato di crisi alla regione del Veneto, alla luce delle gravi di percussioni che sta avendo questa epidemia. Adesso stiamo facendo con la protezione civile il giro per la città per dire ai cittadini di rimanere in casa il più possibile. E assieme a una rete di volontariato che vede Caritas, Hauser, la protezione civile, la Croce Rossa Comitato Terme Ugane, i nostri uffici con l'assessorato al sociale, abbiamo messo in piedi questa iniziativa per portare la spesa, i medicinali a domicilio a tutte quelle persone che non riescono ad uscire. Io sono convinto che vinceremo tutti assieme questa battaglia, dobbiamo tenere i nervi saldi, anche se essere rinchiusi in casa è difficile. Adesso stiamo cercando di attivare anche un servizio per contattare telefonicamente i nostri cittadini, per scambiare con loro anche qualche due parole, però magari i cittadini che sono a casa da soli. Quindi invito tutti a rispettare le regole, perché solo il nostro comportamento può aiutarci a debellare questa brutta parentesi. Ad Abano Terme da venerdì iniziati i controlli capillari del territorio. Le ordinanze vanno rispettate per il bene di tutti. È iniziato in questi giorni il servizio di controllo del territorio, con l'ausilio della Polizia Municipale, della Protezione Civile. Verranno interessati tutti i quartieri della città con mezzi che diffonderanno attraverso altoparlanti l'invito a tutta la cittadinanza a rimanere a casa. Questo perché è un momento decisivo dove tutti noi dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo ed evitare il più possibile di uscire fuori dalla nostra abitazione se non per motivi urgenti. Ringrazio tutti coloro che si stanno proteggando in questi momenti e credo che l'impegno di tutti ci aiuterà a superare questo momento.